Salve a tutti, sono Gianfranco Marini. Volevo presentarvi una delle più interessanti risorse, anzi raccolte di risorse esistenti in italiano, realizzata da Narita Vizzari, sul tema dell'infografica. Ma in primo luogo volevo presentarvi un'infografica, un'infografica che a una certa età si tratta del Mysterium Ecclesiae, di Giochino da Fiore, tratto dal Liber Figurarum. Siamo nel 1250. La rappresentazione grafica a forma di spirale rappresenta l'accoppiamento di due linee, il ciclo liturgico e l'intera storia della salvezza sono rappresentate in questa infografica. Questa non è solo un'infografica, è un esempio di composizione sinsemica. Cos'è la sinsemia? La sinsemia è una forma complessa di comunicazione segnica, in cui acquista significato lo spazio e le relazioni spaziali tra gli elementi che compongono questo messaggio, il messaggio sinsemico. Cioè si comunica non solo col testo, le parole, ma anche con la grafica e con le immagini. E nell'universo sinsemico, immagini, parole, grafica, testo, elementi paratestuali, cioè che fanno da contorno al testo, come la copertina, l'impaginazione, eccetera, si integrano in un ecosistema complessivo. Se abbiamo l'accortezza di confrontare questa definizione con quelle che sono le forme di comunicazione oggi prevalenti tramite dispositivi mobili, insomma il web, ci rendiamo subito conto che potremmo dare una ulteriore ed ennesima definizione di questa età della comunicazione come età della comunicazione sinsemica. Ebbene, la capacità di utilizzare in modo integrato i diversi codici che vanno a convergere in un messaggio sinsemico, e quindi immagine, grafica, testo e così via, costituisce una delle competenze più alte e più complesse nell'ambito della comunicazione digitale, e non giochino da fiore, non usava certo il digitale. Cosa meglio dell'infografica per imparare a utilizzare insieme tutti questi codici? Infatti nell'infografica vi è un rapporto inestricabile tra segno grafico e parola scritta, che non sono distinguibili, disgiungibili se l'infografica è fatta bene, la grafica comunica parole e le parole hanno una forma grafica, la quale connota ulteriormente il loro significato. Ecco perché voglio presentarvi questo Infografiche nella didattica, che ritengo una delle migliori raccolte, nonché spiegazioni, di che cosa sia l'infografica e di come la si possa utilizzare nella didattica, esistenti in italiano, realizzata da Narita Vizzari in occasione di un convegno a Caserta nel novembre del 2016, e una presentazione in 19 slide, che è suddivisa in sei sezioni, a cominciare da che cosa sono le infografiche, in cui si traccia la storia dell'infografica e delle sue origini, e si sottolinea a cosa serve un'infografica, quale tipo di informazioni possono essere rappresentate in modo visivo-grafico, quali sono le tipologie di infografiche, i modelli o le metafore a cui le infografiche possono ricorrere, e così via. Ciascun elemento di ogni sezione di questa presentazione, poi corredato da ulteriori informazioni, è da un numero impressionante di link che forniscono esempi, materiali, applicazioni, raccolte, articoli e così via. Io non illustrerò ovviamente tutte e 91 le slide, ma mi limiterò a indicare i temi di ciascuna sezione, qui troviamo per esempio gli obiettivi che possiamo conseguire nell'apprendimento e nell'insegnamento attraverso l'uso delle infografiche. Quali sono gli approcci didattici in cui le infografiche possono essere utilizzate proficuamente? Quali sono le fasi di realizzazione di un'infografica? Vedete che gli argomenti sono trattati in modo puntuale, con molti esempi, per esempio abbiamo linee del tempo, processi e procedure, tag cloud, diagrammi, tutte modalità con cui possiamo creare infografiche per veicolare un certo tipo di informazioni, conoscenze. Ci sono per esempio le mappe mentali, le videoinfografiche, le rappresentazioni visuali di dati e ci sono i vari esempi per ognuno di queste tipologie. E' estremamente utile anche la raccolta, realizzata sempre da Narita Vizzeri, di applicazioni per realizzare infografiche. Si tratta di webware, cioè applicazioni web. Se non riuscite ad accedere cliccando sul link, come capita a me, uscite dalla modalità presentazione e andate su trascrizione completa e cercate il link. Eccolo qui, è questo. Potrete accedere a questa pagina dove vedete una raccolta, come dicevo, di applicazioni web su divisi, linee del tempo, diagrammi, grafici, poster e così via. Se andiamo su poster, per esempio, troviamo 5 applicazioni per realizzare poster. Risaliamo su, non so, diagrammi e qui abbiamo tutta una serie di applicazioni per realizzare diagrammi. Si tratta di una raccolta estremamente utile, estremamente completa, soprattutto è utile il fatto che sia stata ordinata in modo da offrirci una guida nel tentativo, che ormai è sempre più disperato, di orientarsi tra le migliaia di applicazioni disponibili sul web. Nella quarta sezione abbiamo la possibilità di consultare il processo di creazione di ronfografica con Isly e di accedere a un tutorial visuale e testuale di come generare un meme con meme generator. Vedete che è molto semplice. La sezione 5 si occupa di come creare delle raccolte o repertori o curricola nella nostra attività didattica e del perché sia utile realizzare queste raccolte, di quali capacità entrino in gioco e vengano potenziate e quali obiettivi ci si può opporre. Infine l'ultima sezione, laboratoriale, ci propone una sorta di infografica che è un tutorial per realizzare appunto una raccolta in cui elementi grafici, elementi testuali, elementi concettuali si integrano di realizzare una raccolta. Ci mostra, dicevo, come realizzare una raccolta in cui si integrano tutti questi elementi, una raccolta con Perl Trigger. E questo può essere il risultato. Troverete il link a questa interessante presentazione realizzata da Anna Rita Vizzeri nel box descrittivo sotto il video che pubblicherò su YouTube. Direi non solo una presentazione ma anche una raccolta di risorse, di esempi, di applicazioni e una spiegazione di quelli che sono i più importanti elementi concettuali che possiamo ricollegare all'infografica, ma anche dell'utilizzo didattico dell'infografica. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.